Condanne per complessivi 37 anni e due assoluzioni, si è chiuso con questa sentenza il processo Campailla scatuito dall'omonima operazione antidroga condotta dai carabinieri nel centro storico di Modica, proprio dove insiste la piazza Campailla, luogo di spaccio scelto dai sette imputati nel procedimento e dal quale è presa il nome l'operazione. Gli anni di carcere inflitti dal collegio penale sono stati circa la metà rispetto alla richiesta della pubblica accusa che aveva invocato poco meno di 70 anni. Maurizio Edgar Affè, 23 anni, è stato condannato a 9 anni e 5 mesi e 27 mila euro. Per Rosario Lipari, 30 anni, condanna a 9 anni e 26 mila e 500 euro di multa. Marco Ruta, 25 anni, è stato condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere e 29 mila euro di multa. Per Yalabi Billel, 23 anni, nato a Modica ma di origini tunisine, 8 anni e 6 mesi e 26 mila euro. Gianluca Nani, 30 anni, è stato condannato a un anno. Le assoluzioni sono arrivate per Tiziano Cicciarella, 21 anni, e per Maria Grazia Sammito. Il primo è stato assolto perché il fatto non sussiste, mentre la seconda, per non aver commesso il fatto, proprio la ragazza incensurata avrebbe intrattenuto una relazione con il presunto capo del gruppo, Marco Ruta. Erano stati scoperti nelle case degli arrestati complessivamente 25 grammi di marijuana, una dose di cocaina pronta per lo snaccio e un flacone di metadone di solito utilizzato per la cura riabilitativa dei tossicodipendenti. Nessuno degli arrestati era però in cura al SART e i militari sospettarono che il metadone fosse utilizzato per il taglio della droga. Per tutti l'accusa era di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio in concorso. L'operazione fece scalpore a Modica, in quanto si trattava in alcuni casi, di ragazzi di buona famiglia o comunque insospettabili. Grazie a tutti.